Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Due rapine in un'estate che le avevano fruttato oltre 3.000 euro, ma poco più di un mese dall'ultimo colpo è stato arrestato dalla polizia ed è finito in carcere a Marino del Tronto. Si tratta di un 26enne di Porto d'Ascoli che era diventato il terrore delle farmacie. Armato di coltello lo scorso 1 luglio, il giovane con il volto coperto da occhiali e mascherina aveva messo a segno una rapina ai danni della farmacia salaria Porto d'Ascoli, sottraendo l'incasso di circa 2.000 euro. L'uomo dopo aver simulato di essere interessato all'acquisto di un integratore aveva puntato il coltello ad una delle addette e sotto minaccia si era fatto consegnare tutto il denaro contante, quindi era fuggito a piedi. L'intervento del personale del nucleo operativo dei Carabinieri di San Benedetto e le riprese delle telecamere di videosorveglianza avevano permesso di seguire i movimenti del malvivente e di riconoscere dai tatuaggi che si trattava di un 26enne residente in zona già noto alle forze dell'ordine e segnalato quindi alla procura quale responsabile del reato. Circa un mese dopo il 4 agosto un'altra rapina fotocopia era andata in scena alla farmacia in zona agraria a poche centinaia di metri dall'altra attività colpita in precedenza. Stavolta il rapinatore aveva fatto finta di acquistare dei preservativi per poi passare dall'altra parte del bancone. Puntando sul fianco della farmacista il grosso cacciavite che impugnava come arma si era fatto consegnare 1.200 euro custoditi in cassa. In questo caso però il giovane autore del fatto indossava un giubbino a maniche lunghe indumento insolito date le alte temperature e messo secondo gli inquirenti appositamente proprio per nascondere tatuaggi o altri segni distintivi presenti sulle braccia. Ma visto l'identikit e lo stesso modus operandi il personale del commissariato è riuscito ad identificare l'autore come lo stesso soggetto della rapina del 1 luglio. La procura di Ascoli Piceno ha dunque richiesto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere a carico del giovane.